Che vuoi? Albano tradisce Loredana Leciso, la clamorosa scelta su Romina Power v in Sweden Colpo di scena tra Albano e Loredana Leciso, tradimento a Capodanno con Romina Power? Colpo di scena per la coppia composta da Albano e Cancelletto Loredana Leciso Le ultime di gossip di queste ore rivelano che il 2018 è cominciato con un tradimento da parte di Albano, video virgola che ieri sera ha trascorso la serata dellultimo dellanno non in compagnia della sua amata Loredana bensì della sua ex moglie Cancelletto Romina Power Aria di crisi tra Albano e Loredana Leciso? Il clamoroso tradimento di Capodanno Chi ha avuto modo di seguire lo show evento lanno che verrà in onda in diretta tv su Rai 1 dalle 21 con ascolti record, ha potuto notare che Albano era uno degli ospiti della serata condotto da Amadeus e al suo fianco aveva anche la storica consorte Romina Power, con la quale ha cantato tutti i grandi successi del loro repertorio tra cui Felicità e Nostalgia Canagalia Una scelta clamorosa da parte di Albano che quest'anno ha festeggiato il nuovo anno non con Loredana Leciso, con la quale sembrerebbe che non abbia trascorso neppure il Natale Sì, perché le gossip news rivelano che nei giorni scorsi l'Aleciso ha pubblicato su Instagram uno scatto dove diceva che aveva trascorso il Natale in compagnia di una sua amica e non di Albano Una foto che ve ha fatto molto discutere e che ha suscitato un bel po' di gossip in rete, dove in molti hanno addirittura ipotizzato che la coppia Albano-Loredana fesse in crisi e che i due si sarebbero addirittura detti addio proprio in questo periodo di feste natalizie Romina Power si intromette tra Albano e Loredana? Sta di fatto che in queste ore Loredana Leciso, video, non ha ancora proferito parola sulla scelta di Albano di trascorrere la serata di fine anno in diretta su Rai 1 con Romina Power, anche se ovviamente per motivi lavorativi Coloro che credevano che Loredana fesse dietro le quinte dello show di Maratea, si sbagliavano di grosso visto che la Leciso non era presente nel backstage del concertone di Capodanno 2018 Qual è la verità a questo punto sulla coppia Albano-Loredana? I due sono davvero in crisi oppure si tratta di un rumor si infondato? Una vera stoccata al vetriolo contro la Leciso Ciao Ciao Ciao